La soprintendenza archeologica Belle Arti e Paisaggio per le province di Salerno e Avellino ha dato parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione del nuovo cineteatro comunale Miriam a Capaccio Pestum. L'organo ministeriale ha valutato positivamente dal punto di vista paesaggistico il progetto approvato dall'amministrazione comunale retta dal sindaco Franco Alfieri recependo i chiarimenti forniti dagli uffici comunali in merito alla variante urbanistica nonché manifestando apprezzamento per la proposta progettuale. In particolare la soprintendenza evidenzia che il progetto appare congruente con il contesto in quanto richiama in parte i prospetti originari del fabbricato preesistente. Inoltre sottolinea che la rotazione in pianta rispetto al fabbricato originario proposta nel progetto determina una maggiore apertura e visibilità alla piazza Santini con una riqualificazione urbanistica e una ricaduta positiva anche sotto il profilo paesaggistico. Ne eravamo certi e la soprintendenza lo ha confermato. Il nostro progetto per il cineteatro Miriam non solo è valido ma migliorerà il contesto urbano di piazza Santini anche sotto il profilo paesaggistico. Avanti il teatro dichiara il sindaco Alfieri e finisce il teatrino. Grazie 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 Grazie